Bene ragazzi, eccoci qua con il video dei Fat Shark HD3, era da un bel po' che li volevo comprare e finalmente ci sono riuscito. L'indecisione è stata molta fino alla fine su quale modello dei Fat Shark comprare o addirittura se puntare su una versione o comunque un occhiale più ready to fly come gli Sky Zone oppure i Commander. Alla fine ho voluto scegliere il Fat Shark HD3 in questo caso perché secondo me sono uno dei migliori compromessi e anche investimenti che comunque vi dureranno nel tempo ed eventualmente se dovrete abbandonare questo hobby potrete rivendere comunque a una cifra sicuramente interessante. Detto questo, in questa prima parte di video andremo a vedere l'unboxing e il setup degli occhiali. In un secondo video andremo a vedere anche come volo con gli occhiali, la registrazione del DVR, comunque come funziona la ricezione e comunque come mi permette di volare. Vi posso già anticipare, non so come ho fatto fino adesso senza questi occhiali perché sono veramente fantastici. Partendo dal contenuto della scatola possiamo trovare il case, la custodia per portare gli occhiali, gli occhiali, le mascherine con il biadesivo da applicare. A mio avviso questa cosa potevano già farla loro, almeno applicare il biadesivo per fare una roba precisa. Lo so che magari è una cosa semplice però è sempre uno sbattimento come mettere le pellicole sul cellulare. Vabbè, piccola parentesi, abbiamo il case per le batterie, batterie non comprese solo il case, abbiamo infatti la prima cosa che vi segnalo è che dovrete comprare batterie da 18.650 a parte. L'altra cosa che dovrete comprare a parte è il modulo ricevente, io in questo caso ho preso un Furious FPV TrueD, uno dei migliori moduli in commercio da quello che ho potuto capire, quindi anche su questo fronte non mi sono risparmiato. Allora, per quanto riguarda il contenuto della scatola abbiamo anche qualche adesivo, il panno per pulire le lenti e basta. In pratica, oltre agli occhiali, quindi avrete già capito che dovrete comprare le batterie di 18.650 oppure anche delle pile adattabili già fatte senza dover inserirle dentro al case in caso fatte prima. Oppure ci sono anche degli adattatori che vi permettono di inserire delle lipo, da quello che mi ricordo fino a 2S fino a una 4S, supportano gli occhiali in entrata. E l'altra cosa che dovrete comprare è il modulo ricevente che vi permetterà di sfruttare gli occhiali. Senza questa gli occhiali non funzionano. Dopo aver aperto il contenuto della scatola, quello che dovremo andare a fare sarà inserire appunto il modulo ricevente, in questo caso vi ho già detto la Furious FPV TrueD. In pratica andiamola inserire nei pin, come vi sto facendo vedere. Una volta che abbiamo inserito i pin, fattolo in modo molto delicato, andremo a inserire anche la placchettina davanti per poi andare a inserire i due inserti per le antenne e per poi inserire le antenne. Una volta che avrete inserito il modulo, potremo collegare la batteria, ovviamente con le batterie da 18.650 che abbiamo comprato. Molto comodo il case perché comunque ci permette di vedere tramite il pulsantino lo stato di entrambe le batterie e quindi il totale con 4 LED azzurri. Una volta che abbiamo collegato la batteria agli occhiali potremo collegare sia il jack per la corrente, mentre il pin bianco serve per le ventole. Le ventole, da quello che ho capito, non servono più che altro per raffreddare gli occhiali ma servono per sbrinare quando magari è troppo caldo o comunque si fa della condensa sulle lenti. In poche parole con la ventolina riusciamo a sbrinare le lenti appannate. Una volta collegata la batteria potremo vedere accendersi il display del modulo ricevente e da qui dovremo andare a fare la prima calibrazione. Per fare la calibrazione dei Fatshark HD3 ho utilizzato un mini quad perché le istruzioni dicono che per calibrare il segnale con i Fatshark HD3 dovremo prendere un segnale da 25mW, quindi un segnale più basso possibile, in modo che la calibratura tramite le impostazioni del modulo avvenga nel miglior modo possibile. Da quello che ho capito dovremo fare la calibrazione con un segnale video da 25mW in modo che con un segnale molto basso noi riusciamo a calibrare gli occhiali e quindi quando ci sarà un segnale molto più alto ovviamente e quindi gli occhiali faranno molta meno fatica a ricevere il segnale. Vi posso dire che comunque dopo la calibratura e dopo aver provato gli occhiali questi occhiali prendono sicuramente bene, poi ovviamente è sempre un discorso di antenne, il drone, in poche parole la VTX che ha sul drone, insomma un insieme di cose che comunque andranno a migliorare o a peggiorare il segnale. Una volta che avrete il vostro drone o comunque la vostra VTX che avrete regolato a 25mW, colleghiamo la batteria del drone in modo che il segnale video sia presente e poi andiamo a cliccare su calibrate. Una volta che avremo cliccato sul pulsante dovremo solo attendere la fine del procedimento. Una volta che avrete concluso il procedimento dovrete inserire le antenne per poi iniziare a volare. Allora da quello che ho visto abbiamo anche la funzione di smart scan per individuare il canale più performante del nostro drone. Allora l'ho scritto a video, mi stavo dimenticando che comunque la calibrazione oltre ad avere un segnale molto basso da 25mW va fatta senza antenne. In questo modo potrete ricevere il segnale nel miglior modo possibile, sempre per il discorso che con un segnale molto basso senza antenne a 25mW gli occhiali riescono comunque a riceverlo. E vi assicuro che ad una distanza di 50cm o quant'altro il segnale è comunque buono, senza antenne è un segnale da 25mW. Quando andrete a inserire le antenne, scusate se sono ripetitivo però è bene dirlo perché comunque anch'io l'ho dovuto imparare da solo, anzi grazie ad Alberto anche. E quindi con un segnale molto debole, se noi riusciamo a captare questo segnale con un segnale con le antenne a 200, 400, 600, 800 mW il segnale sarà sicuramente molto forte e potente per gli occhiali. Detto questo, una volta che abbiamo fatto tutto questo, quello che vi ho detto, noi siamo pronti per volare e vedere come funzionano gli occhiali. Per questa seconda parte di come funzionano gli occhiali e quant'altro vi rimando al prossimo video che andrò a fare. Per il momento è tutto quindi ragazzi e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!